I dati diffusi dai carabinieri di Padova lasciano senza parole. Sono 34 le denunce sul territorio provinciale nel solo mese di ottobre per maltrattamenti in famiglia o stalking e 25 le misure cautelari e precautelari messe in campo dagli uomini dell'arma. Ma solo negli ultimi giorni c'è stato un arresto e una denuncia in stato di libertà a Selvazzano Dentro. Gli uomini dell'arma hanno arrestato in flagranza di reato un 61enne che nonostante gli fosse stato vietato di avvicinarsi all'ex consorte è stato trovato a circa 80 metri dalla sua abitazione. L'uomo che indossava il braccialetto elettronico a seguito di un procedimento per maltrattamento in famiglia ha tentato la fuga ma è stato fermato dai carabinieri e arrestato in attesa del processo per direttissima. Mercoledì scorso invece gli uomini dell'arma hanno ricevuto una chiamata da un bar dove un uomo continuava ad imbeire contro la compagna. La donna però si è sfogata con delle ragazze che erano presenti nel locale e hanno allertato il 112. I militari arrivati sul posto hanno cercato di ricostruire la vicenda. In caserma la donna ha trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti che duravano da anni e mai denunciati per paura. Nella foto del documento d'identità portava addirittura evidenti ecchimosi in volto. L'uomo è stato quindi allontanato d'urgenza dalla casa familiare e la vittima è stata collocata in una struttura protetta.